Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Ministro Grillo interviene sulle fasciature di cartone utilizzate per curare le fratture e gli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Convocati scure, il direttore generale del nosocomio faremo emergere, dice l'esponente di governo, le responsabilità. Non ci sono ortopedici in Calabria. L'allarme lanciato nel corso del vertice è convocata a Catanzaro. Candela, necessario accreditare la scuola di specializzazione. Smantellata la cosca Reggio Calabria, 14 arresti, operazione congiunta dei ROS della squadra mobile. I genitori di Roberta Lanzino chiedono verità e giustizia. Trent'anni fa l'omicidio della ragazza, un crimine ancora impunito. Gli agricoltori dell'Alto Ionio Cosentino, duramente provati dalla carenza idrica, chiedono l'intervento alla Regione prima che sia troppo tardi. Bentrovati in nuova edizione del nostro Tg in Apertura. Il clamoroso caso delle fratture curate con tutori di cartone a Reggio Calabria. Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha convocato d'urgenza il commissario scuro e il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Il Ministro della Salute Giulia Grillo vuole vederci chiaro sulla vicenda della frattura curata con fasciature di fortuna e cartone nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ingiustificabili, sottolinea le carenze organizzative. Il Ministro ha convocato il commissario scuro e il direttore generale per riferire sui fatti e ha assicurato tutto il suo impegno per accertare eventuali responsabilità e per evitare che fatti del genere si ripetano in futuro. Nell'ospedale Regino sono arrivati anche i carabinieri del NAS. Si cerca di verificare quanto accaduto ai riuniti di Reggio Calabria. Un fatto, aggiunge il Ministro, di una gravità estrema. Nessuno, sottolinea, intende sottovalutare le oggettive difficoltà in cui gli operatori svolgono la loro attività, ma quanto accaduto, se confermato, aggiunge, è frutto di evidenti e ingiustificabili carenze organizzative. E la vicenda ha suscitato molto clamore. L'ospedale ha disposto un'indagine interna e sarebbero quattro e non solo uno i casi di fasciature effettuate col cartone nell'ospedale di Reggio Calabria. A sottolinearlo i medici del sindacato a Nao Assomed della città dello stretto. Al grande ospedale metropolitano Regino dunque non sempre si trova il gesso per curare le fratture dei pazienti. Un problema che, a quanto pare, esiste già da un po' di tempo nel pronto soccorso della struttura e il personale, per risolverlo, ha trovato una soluzione di fortuna, ossia usare, al posto del gesto, pezzi di cartone. Le prime vittime di questa vicenda, aggiunge il sindacato, sono i medici che ci mettono la faccia in quello che fanno e l'eventuale danno professionale è a carico loro. E ancora per la sanità, vertice a Catanzaro, proprio sull'emergenza medici in Calabria, non ci sono ortopedici. Il dottore Candela ai nostri microfoni dice che è necessario accreditare la scuola di specializzazione. A livello nazionale migliorano i livelli di cura, a differenza della Calabria e della Campania, dove invece la situazione è peggiorata. Questa volta, a sottolineare la situazione drammatica che si registra nella nostra regione, sono i dati provvisori del monitoraggio LEA 2016 del Ministero della Salute, diffusi dal Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza ottiva. E così, se 160 è il punteggio necessario per considerare una regione adempiente nell'erogazione di LEA, la Calabria, che nel 2016 ha raggiunto un punteggio di 144, perdendo tre punti rispetto all'anno precedente, rimedia una sonora bocciatura. L'ortopedia è il settore che probabilmente soffre di più. Mancano i medici e non solo. Emblematico quanto accaduto al Reggio Calabria, dove una frattura è stata curata con del cartone perché mancava il gesso. Una vicenda che la dice lunga sulle carenze della sanità calabrese. Il delegato alla sanità Pacenza ha convocato una riunione per affrontare il tema della carenza di medici specialisti sul territorio regionale, in particolare in ortopedia e traumatologia. Ma cos'è emerso? C'è stata la volontà comune di tutti i partecipanti al tavolo di cercare una soluzione affinché queste criticità vengono sopperite. Si dovrebbe trovare un accordo fra l'azienda ospedaliera di Catanzaro e l'azienda universitaria affinché la scuola di specializzazione in ortopedia possa raggiungere i requisiti minimi richiesti dal MIUR affinché questa scuola di specializzazione possa di nuovo essere accreditata dal prossimo anno. Un piccolo passino avanti dunque per affrontare una situazione al momento drammatica. Ad oggi dunque si bantiscono concorsi senza concorrenti e c'è il concreto rischio nei prossimi mesi di avere un'ulteriore difficoltà a mantenere le attuali e già poche divisioni di ortopedia funzionanti. Ma quanti medici e ortopedici mancano? Solo nell'azienda sanitaria di Cosenza ne mancano 4 a Paola, 5 a Castrovillari e 2 a Rossano. Diciamo che per quanto riguarda la Calabria, quelli che attualmente sono in meno sofferenza sono gli hub, ma anche a Cosenza ne manca uno. Catanzaro dovrebbe, come Tugliese, ne manca un altro, a Reggio Calabria ne mancano altri 2 o 3. Quindi dobbiamo cercare di cambiare la tendenza e questo si può effettuare solo ed esclusivamente riaccreditando la scuola di specializzazione in ortopedia. Intanto il delegato alla Sanità Franco Pacenza lancia strali all'indirizzo del commissario Scura sulle assunzioni. Pensa, scrive, agli accalappiacani quando nei reparti c'è carenza di personale. E il delegato alla Sanità Franco Pacenza attacca il commissario Scura, questa volta sulle assunzioni. A margine della riunione convocata alla cittadella regionale per affrontare la drammatica situazione che si registra in ortopedia, Pacenza evidenzia l'attuale fase di emergenza medica e sanitaria nelle strutture della regione e contesta le scelte effettuate dal commissario alla Sanità. Se il commissario ritiene che i reparti vanno tutti a gonfiovele, c'è un turnover splendido, non c'è nessun problema per quanto riguarda le attività piccole o grandi, nei grandi centri o in periferia, per noi non è così. Purtroppo non è così, è drammaticamente l'inverso. Pacenza definisce paradossali le assunzioni previste dal commissario Scura. Ma si può tollerare di assumere accalappiacani? Il commissario Scura ha reso ridicola questa regione perché in mezza Italia si parla degli accalappiacani assunti in Calabria, ma per fare che cosa? Oppure degli amministrativi. Ma se c'è un'emergenza medica di questa portata, se c'è un'emergenza sanitaria, quindi medici, infermieri, assistenti, tecnici, tutto il comparto sanitario. E si può scegliere poi, con una coperta così corta, di mettere sul piatto delle priorità fatte di questa natura che possono essere accalappiacani, ma che possono essere anche operatori informatici per decine e decine, o che possono essere autistiche, c'è una spalmatura senza avere una bussola di riferimento, senza avere una priorità. La cronaca adesso ci porta al Reggio Calabria, operazione anti-indrangheta dei ROS della squadra mobile, 14 arresti, scacco alla Cosca Libri. È quello che solitamente si definisce un colpo ben assestato. 14 arresti nei confronti di appartenenti alla Cosca Libri di Reggio Calabria sono stati eseguiti nella notte in una operazione congiunta di carabinieri e polizia, a conclusione di un imponente lavoro investigativo coordinato dalla procura distrettuale antimafia della città dello Stretto. È un risultato definito molto importante dagli inquirenti. Non a caso il procuratore capo di Reggio, Giovanni Bombardieri, ha chiarito che l'indagine ha permesso di ricostruire tutte le fasi di riorganizzazione dello storico clan regino. Le indagini che sono state svolte in maniera puntuale, completa, con grande sacrificio dalla squadra mobile, dal ROS, dalla territoriale dei carabinieri, hanno fotografato una situazione che è emblematica delle cosche d'indrangheta. Ci sono tutti gli elementi per poterla definire prosecuzione di quell'attività d'indrangheta storica della Cosca Libri, che è una delle principali cosche che operano nella città, nel Reggino, e che vanno appunto dall'imposizione del pizzo al sostentamento dei detenuti, addirittura l'arroganza nel decidere chi doveva occupare un alloggio abusivo, addirittura nel praticare lo sgombero. L'operazione scaturita da due distinte inchieste, Teorema e Roccaforte, ha permesso in effetti di accertare l'esistenza di una sorta di cupola segreta cittadina, che avrebbe avuto la direzione strategica di tutti gli affari criminali gestiti dall'indrangheta e nei quali libri di fatto ricostituitisi come clan dopo la morte dei capi storici Mico e Pasquale, avrebbero avuto ruoli apicali. Sono tante le attività che erano soggette al volere della Cosca Libri, e quindi erano soggette a sottostare a quelle che erano le richieste dalla criminalità organizzata, a questo posto dell'indrangheta. Del resto in manette sono finite vecchie e nuove leve della Cosca, che ha, e lo conferma il monitoraggio degli investigatori, superato una vera e propria fase di transizione ed evidentemente di rigenerazione, al fine di mantenere o tornare a mettere le proprie mani sulla città. E comunque c'è un dato che va al di là della metafora. Pare che un immobile dell'Inps sarebbe stato per anni nella disponibilità dei clan, e pare anche gratuitamente. Anche questa è la cifra del potere criminale di una Cosca. Ci spostiamo adesso a Parabati, nel Vibonese, per l'omicidio-suicidio, che ha visto un anziano 83enne uccidere la moglie. L'uomo poi si è tolto la vite, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. L'incredulità oggi della comunità. La scoperta ieri sera intorno alle 20. Una telefonata al 112 segnala la presenza di un cadavere pensonante in località Ardeire, in una zona di campagna del territorio di Parabati. Quando i carabinieri e gli ordini del capitano Piermarco Borettazza arrivano, scoprono il corpo di Severio Mididoni, 83 anni, appeso a una trave, e poco più in là, quasi ai suoi piedi, la moglie Concetta Furcio, 82 anni, in una pozza di sangue. I coniugi abitano nel centro di Parabati, ma qui vengono quasi ogni giorno per accudire l'orto di pochi animali in questa casa di campagna che nel tempo aveva realizzato il loro figlio che vive a Torino. Non è chiaro cosa sia successo e non pochi sono gli interrogativi. Una vita passata insieme, una famiglia costruita insieme, tra inevitabili sacrifici, tra gioie e dolori, una vecchiaia vissuta insieme tra acciacchi e malattie, con quella cardiaca di lei che si aggrava portando alla depressione. Una vita tranquilla, vissuta in paese tra amici e parenti e le visite in chiesa. D'un tratto, questa routine si interrompe tragicamente, inaspettatamente con un gesto estremo che tronca l'esistenza e squarcia l'apparente tranquillità di una famiglia normale. Ci saranno le indagini dei carabinieri, i risultati dell'autopsia che aiuteranno a capire, ma al momento rimane lo sgomento di una comunità che conosceva i due coniugi, descritti come persone miti. Certo, nel tempo non sono mancati i diverbi, ma in quale famiglia non vi sono discussioni anche accese, mai tali da poter degenerare in una simile tragedia. Una ricostruzione verosimile fa pensare che l'uomo abbia sferato un colpo alla moglie con un oggetto contundente mentre erano all'interno della legnaia e, evidentemente, quando si è accorto che la donna non respirava più, ha deciso di farla finita, ha legato una corda ad una trave, facendola poi passare per il collo e lasciandosi andare nel vuoto. Ad effettuare la tragica scoperta è stato un congiunto della coppia che si è recato sul posto dopo che la figlia aveva confidato la sua preoccupazione perché i genitori non erano ancora tornati a casa. Il nipote, giunto in località Arderia, è entrato nella casa di campagna e aperto alla porta del locale di Bito a deposito della legna, ha fatto la tragica scoperta. Il processo Costa Pulita ha condannato l'ex presidente della provincia di Vibo, Andrea Niglia, nel processo con rito abbreviato e il GUP ha combinato 30 condanne e una soluzione. Due anni di reclusione, questa la pen inflitta dal Tribunale di Catanzaro all'ex presidente della provincia di Vibo Valenza ed ex sindaco di Briati e con Andrea Niglia nell'ambito del processo con rito abbreviato scaturita dall'operazione Costa Pulita era accusato di corruzione elettorale aggravata dalle modalità mafiose. Il procedimento Costa Pulita è stato istruito dalla DDA di Catanzaro contro la cosca d'Indrangheta dei Mancuso e i clan satelliti a Corinti, la Rosa e il Grandi attivi tra Briatico, Pargheli e Tropea. Gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, corruzione elettorale, traffico di armi, assorsioni, usura e danneggiamenti. Nel processo con rito abbreviato il GUP Pietro Carè ha combinato 30 condanne e una soluzione. Ancora la cronaca, operazione Gerri, la sentenza del GUP di Reggio Calabria in primo grado infitti più di tre secoli di carcere ai 17 imputati accusati di narcotraffico internazionale. Una vera e propria stangata, quella in primo grado, ai 17 imputati coinvolti nella cosiddetta operazione Gerri avviata circa un anno fa. Più di tre secoli, precisamente 330 anni di carcere combinati dal giudice per l'udienza preliminare distrettuale di Reggio Calabria, agli uomini delle più importanti cosche d'indrangheta della piana di Gioia Tauro con l'accusa di narcotraffico internazionale. Nell'inchiesta della DDA Regina erano stati coinvolti membri dei clan Bellocco di Rosarno, Piromali di Gioia Tauro, Avignone di Taurianova e Pavilioniti, cosca attiva sulla costa ionica Regina. A fronte dei 262 anni complessivi richiesti dal pubblico ministero Simona Ferragliuolo, il GUP di Reggio Calabria, Nicolò Marino, è andato oltre aumentando le pene detentive per gli imputati che vanno da un minimo di 12 anni a un massimo di 20. L'inchiesta Gerri ha scoperchiato una ramificata organizzazione che farebbe capo all'andrangheta della piana di Gioia Tauro dai marcati profili internazionali capace di pianificare l'importazione di oltre tre quintali di cocaina dal Sud America. Erano stati 136 chili intercettati e sequestrati dalle forze di polizia nel porto di Livorno. Tra gli arrestati circa un anno fa i fratelli Michele e Giuseppe Bellocco, il pluri pregiudicato rosarnese Rosario Arcuri, che secondo la DDA Regina sarebbe un vero e proprio collettore specializzato nell'acquisto di cocaina e in grado di tessere fondamentali contatti utili per curare l'intero viaggio della droga, dal paese produttore al porto di arrivo dove un'equip di professionisti guidati da Domenico Lentini, un calabrese d'anni emigrato in Toscana, provvedeva sia al recupero dal container che alla successiva consegna ai grossisti del settore. Sono trascorsi 30 anni dalla morte di Roberta Lanzino. I genitori Franco e Matilde continuano a chiedere giustizia. presentando la fondazione Lanzino è diventata appunto di riferimento per le donne in difficoltà. La foto di Roberta in mano, sua madre la guarda così da 30 anni, riccioli al vento, una ragazza che si stava preparando per le vacanze e che sulla strada del mare ha trovato la morte. Era il 26 luglio. Il mese di luglio dell'88 ha rovinato le nostre vite. Noi non credevamo mai che esistesse tanta veroce e tanta malvagità. Franco e Matilde, i genitori di Roberta, hanno trascorso migliaia di giorni, centinaia di mesi nelle aule dei tribunali, cercando la verità. È stata una storia fatta di molti errori giudiziari, specialmente all'inizio perché il delitto era firmato. I processi, secondo me, sono stati anche utili, anche se non hanno dato i nomi, perché hanno descritto il luogo proprio in cui si è svolto, il contesto in cui si è svolto questo terribile omicidio fatto da persone che, oltre ad essere stupratori e omicidi, ma sono anche vigliacchi. Se fossero stati degli uomini, forse avrebbero potuto dire che sono stato io. Nell'ultimo processo che si è celebrato a Catanzaro non ci sono andato, ma non ci sono voluto andare con molta consapevolezza e con molta coscienza perché la mia ha voluto essere soltanto una protesta. Perché in quello precedente che si è celebrato a Cosenza, che è durato oltre sei anni, è una vergogna, è una vergogna. Un delitto senza colpevoli, c'è ancora fiducia nella giustizia? Molto tempo non ne abbiamo perché abbiamo anche una certa età, ma non è importanza, i tempi non hanno importanza, speriamo di sì. Roberta non è stata dimenticata, c'è una fondazione che porta il suo nome. I genitori, con una forza che non sapevano di avere, sono diventati padre e madre per tante donne vittima di violenza. A loro hanno dato questa casa, la casa di Roberta, si chiama così. Guardate i registri della struttura, ogni foglio racconta la storia di un'accoglienza di vittime sottratte ai carnefici. In ognuno di loro si incontra lo sguardo di Roberta, quella luce piena di speranza che qualcuno ha tradito, un dolore che non passa. Rassegnarsi, mai! I consiglieri regionali Carlo Guccione ed Enzo Ciconte si sono autosospesi dal gruppo consigliare del PD. Si sono autosospesi dal gruppo consigliare del PD, i consiglieri regionali Carlo Guccione ed Enzo Ciconte, lo hanno annunciato nel corso dei lavori del Consiglio regionale. Motivo? In quattro anni, ha detto Ciconte, poco o nulla è stato fatto su temi fondamentali come la sanità, il welfare o il lavoro, perché, ha sottolineato, non c'è agibilità democratica ed una discussione franca sui ritardi. Si rileva, ha sottolineato ancora, un'incapacità che preconizza una sconfitta inesorabile. E di sconfitta ha parlato anche il consigliere Guccione, più volte critico negli ultimi tempi con il PD e con la gestione del rapporto giunta regionale-gruppo consigliare. Guccione ha anche sottolineato i gravi problemi che si registrano nella realizzazione dei programmi e nella gestione amministrativa regionale. Parliamo adesso del porto di Gioia Tauro, dove è stato revocato lo sciopero dopo l'incontro con i sindacati. Una prima fumata bianca. Per il momento lo stato di agitazione al porto di Gioia Tauro è stato scongiurato, era stato paventato dalle organizzazioni sindacali per l'inerzia da parte del terminalista MCT che gestisce lo scalo gioiese sulle varie problematiche occupazionali e non, tra cui anche gli investimenti che la società stenta a concretizzare. Questo non significa che l'avvertenza abbia avuto un esito positivo, ma le parti in gioco hanno scelto di provare con una serie di tavoli tecnici, con i vertici aziendali, il filo giusto per affrontare i problemi ad uno ad uno e tentare di risolverli. In primo luogo, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la rimodulazione della turnistica, ovvero che sia meno gravosa per gli operatori del porto. È stato inoltre ribadito che a distanza di un anno dalla Costituzione dell'Agenzia del Lavoro, come già è stato detto in precedenza, non è stato fatto un solo richiamo. Una situazione definita dai sindacati assurda. Come si ricorderà, le varie organizzazioni sindacali avevano dato tempo fino alla fine di luglio per avere risposte certe da parte dell'azienda sui miglioramenti strutturali da realizzare sulla disponibilità ai richiami dell'Agenzia, sia a tempo determinato che indeterminato. In mancanza di certezza avevano minacciato lo sciopero generale. Emergenza idrica nell'Alto Ionio Cosentino, riunione degli agricoltori con il Presidente Oliverio. Vediamo cosa è emerso. Le immagini che vedete si riferiscono alla riunione convocata da Oliverio per fare il punto della nostra questione idrica che coinvolge l'Alto Ionio Cosentino. Situazione gravissima che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura di quell'area a tal punto che venerdì scorso c'è stata una partecipata manifestazione per chiedere al Governo della Regione di intervenire prima che sia troppo tardi. Ebbene, cosa è emerso dalla riunione? Presto detto, il Governatore ha chiesto all'autorità di distretto idrografico dell'Appennino Meridionale un tavolo tecnico permanente e contestualmente sollecitato il segretario dell'autorità di distretto, Vera Corbelli, di verificare la fattibilità tecnica per rispondere nell'immediatezza alle esigenze degli agricoltori calabresi. A questo punto la domanda, problema risolto, difficile dirlo. Di certo però, finalmente è stata ascoltata la voce degli agricoltori e questo rappresenta già un primo passo. Adesso si attende che l'acqua arrivi per irrigare i campi ed evitare che i prodotti d'eccellenza che si coltivano nell'area dell'Alto Ionio si trasformino in un ricordo. Cambiamo decisamente argomento. Visita negli studi di Tene di Miss Italia 2017, Alice, Rachele e Arlac. È stato un anno veramente molto soddisfacente, molto emozionante. Ho fatto delle esperienze uniche che non mi sarei mai immaginata di fare prima. Quindi sono molto soddisfatta e spero che anche cedendo la corona comunque il mio percorso continui così. Ho provato a recitare, ho avuto un ruolo in una fiction che è Don Matteo, però in un futuro mi piacerebbe non tanto fare recitazione, quanto più condurre, quindi presentatrice, conduttrice magari di un programma sportivo in televisione. A me piace tantissimo la Calabria, vorrei potermi fermare di più per magari passare sia dal mare sia a scoprire le città che purtroppo non ho mai visto, però spero ci sarà un'occasione in tempi brevi. Cosa senti di dire alle ragazze che in questo momento stanno cercando di rubarti la corona? In bocca al lupo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo percorso che anch'io ho intrapreso l'anno scorso. Mettetecela tutta, non lasciatevi buttare giù magari da una sconfitta durante una selezione, ma se ci credete continuate a farlo e vedrete che i risultati arriveranno. Io vi auguro il meglio a tutte voi. Noi siamo in giro già da un po' di tempo con varie tappe, in due in particolare, quindi a Cosenza, in piazza 15 Marzo e a Crotone. Il giorno 30 luglio e 31 luglio ci sarà la presenza di Miss Italia, di Alicera Chele Arlang, che impregiosirà queste due tappe regionali. Ovviamente siamo contenti e siamo anche curiosi di sapere chi saranno le prime due ragazze che ci rappresenteranno a livello nazionale e quale migliore occasione appunto per avere come madrina della serata la Miss Italia in carica. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Come precedentemente accennato, nelle prossime ore l'arrivo di un promontore anticiclonico di matrice africana con i suoi massimi posizionati sul Mediterraneo occidentale causerà un rialto della temperatura di diversi gradi sul centro nord Italia e in particolare sulla Sardegna e il nord-ovest, mentre sulla nostra regione non subiranno variazioni di rilievo, con la prosecuzione, quindi, della classica estate mediterranea. Seppur di minore intensità, a tempore di calore continueranno a interessare i rilievi calabresi e le aree limitrofe. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Martedì, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità di tipo cumuliforme con possibili fenomeni sul Pollino, Altipiano-Cilano e Serri-Vibonesi, con possibile sconfinamento su Alto Ione-Cosentino, Valle del Crati e aerea urbana cadenzarese. Temperatura stazionale sempre in linea con le medie stagionali. Mercoledì, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sulle aree montuose per lo sviluppo di nubi cumuliformi, con possibili piogge su Pollino e Altipiano-Cilano, con possibile sconfinamento sulla Valle dell'Esero, Alto Ione-Cosentino, Valle del Crati e aerea urbana cadenzarese. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, generalmente poco mosso il Martireno, con venti deboli dei quadranti occidentali. Sul Marione, poco mosso i bacini centrosettentrionali e calmi quelli meridionali, con venti a regime di imbrezza. Mercoledì, mari generalmente poco mosso con venti di liberazione occidentale sul Mar Tirreno e a regime di imbrezza sul Mar Ionio. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Metin Calabria. Per l'appuntato di Erne è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG. Buon proseguimento. Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.